Marco Ferrero quest'oggi premiato qui al calcio incontri come capo cannoniere della terza categoria fatto 26 gol più 3 considerando tutte le competizioni in questa lunga stagione con gli Albatross allora ti chiedo due battute su questa stagione su questo premio perché sicuramente è una stagione per te positiva e anche per l'Albatross che ha fatto bel campionato. Partiamo dagli Albatross come hai detto tu li ringrazio e li ringrazierò sempre perché dopo tre anni fermo hanno creduto in me ancora hanno dato la possibilità di togliermi ancora questo sfizio e ringrazio la famiglia Marino in primis perché ha creato una gran bella realtà e soprattutto il gruppo di ragazzi che mi hanno emozionato veramente tanto mi emozionano anche adesso finita la stagione e colgo l'occasione per fargli un augurio è un incoraggiamento loro non sanno quanto sono forti e quanto poco c'entrano con queste categorie se solo volessero. Per te tantissimi gol in questa in questa stagione? Sì sinceramente inaspettato perché come ti dicevo arrivavo da tre anni fermo però devo anche dire che ce l'ho messa tutto ho iniziato a allenarmi luglio dell'anno scorso quando ho deciso di ricominciare e il ringraziamento più grande va al mister Capriolo che oltre a essere un amico credo sia un grande prospetto un allenatore in evoluzione ma con grandi capacità e lui più di tutti mi ha voluto mi ha portato e devo dirgli veramente grazie la stagione obiettivamente è andata veramente molto bene grazie a tutti loro. Ecco adesso per il futuro cosa cosa c'è in ballo perché ne parlavamo fuori onda richieste non sono mancate però ci sono anche insomma delle cose personali giustamente che devi valutare cosa ci dici? Lo dico con un profondo rammarico e potrà sembrare una frase fatta mio malgrado al momento lo stato attuale delle cose smetterò di giocare o meglio giocherò con gli amici a livello amatoriale ma impegni lavorativi ma soprattutto familiari oggettivi mi portano a dover prendere questa questa decisione che non è quella delle mie gambe quella del mio cuore ma che devo accettare quindi oggi è così. Si può dire che è chiuso però in bellezza con questo premio e questa classifica di cannonieri vinta? Sicuramente questo è il premio più grande ho vinto altre volte il capo cannoniere ma farlo adesso smettendo così e ne vale veramente la pena. Tra anni fa avevo smesso dopo una stagione complicata la saviglianese l'infortunio non è andata benissimo e forse il rammarico di quella di quella scelta era rimasto lì ed è stata la motivazione più grande adesso quindi sicuramente la ciliegina l'abbiamo messa.